Maria Luisa Merkert nacque, secondo genita, il 21 settembre 1817 in una famiglia borghese di Nisa, in Alta Slesia, all'epoca diocesi di Breslavia. La cittadina, detta la Roma Slesiana per i suoi numerosi monumenti, oggi è in Polonia, ma era a quei tempi tedesca. L'atmosfera religiosa della famiglia influì molto sulla futura vocazione religiosa di Maria e della sorella Matilde. La parrocchia di San Giacomo, in cui Maria fu battezzata, era un importante riferimento. Preghiera Santissima Trinità, unico Dio, con umiltà imploriamo dalla Tua bontà misericordia e aiuto nelle nostre necessità. Per intercessione della beata Maria Merkert, che in vita per Tuo amore servì e si prodigò per i malati, i poveri e gli abbandonati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie. Grazie.